Cicciolina, perché provochi? A Parigi, il grande Morosic, conduttore del telegiornale della Rete 1, l'ha avuta come obbite, alzando, si dice, gli indici di ascolto. Certo, e io voglio salutare Cicciolina. E io voglio anche fare un saluto a Cicciolina, perché vedo che ha lavorato bene in Francia. Cicciolina, come si fa per ottenere la pace nel mondo, secondo te? Sto facendo tanto, tanto, tanto l'amore. Cicciolina! 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 Cicciolina!